presentato dall'assessore mauro febbo il progetto pandora che punta a creare otto figure professionali per lo spettacolo in Abruzzo. La storia di Gino, pescatore musicista di Franca Vidal Mare, la passione per il mare ha permesso a lui di scrivere tante belle poesie che con la sua chitarra ha trasformato in musica e canzoni fino ad arrivare al suo primo cd che si chiama Lu Pescatore. E buonasera alla cronaca in apertura di questa edizione, tre persone arrestate, sei denunciate e questo l'esito di un controllo predisposto dai carabinieri della compagnia di Montesilvano è andato avanti per tutta la settimana scorsa nel territorio di Montesilvano e città Sant'Angelo, finalizzato a prevenire e contrastare furti e rapine. Due giovani, un 19enne e un ventenne, il primo di Montesilvano e il secondo di Pescara, sono stati arrestati per furto aggravato dopo essere stati sorpresi con un minorenne a scassinare la saracinesca di un bar in piazza Marconi con gli arnessi da scasso. Il minorenne è stato affidato ai genitori, il terzo arrestato, un 35enne di Montesilvano nato a Taranto, è finito invece in carcere perché deve espiare una pena di sei anni, nove mesi e 25 giorni per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Rimaniamo a Pescara dove è stato simulato nei giorni scorsi il deragliamento di un treno passeggeri. È avvenuto nella notte nel corso di un'esercitazione di emergenza che si è svolta allo scalo merci di Pescara Porta Nuova. Sono state coinvolte sotto il coordinamento della prefettura di Pescara le squadre di primo intervento del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e le strutture operative di protezione civile, comune e misericordia di Pescara insieme a Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Ferroviaria. E veniamo adesso ad Atri dove è record di iscrizioni all'Istituto Superiore Adonezzoli. Secondo i dati forniti dall'assessorato alla pubblica istruzione del comune, nel prossimo anno scolastico saranno attivate ben 17 nuove classi con un numero di matricole che sfiora i 350 allievi. Lo storico plesso scolastico a Triano si appresta quindi a diventare il primo istituto nel terramano in base al numero di iscritti. La notizia fornisce lo spunto dell'amministrazione comunale di centrodestra per lanciare un assist alla giunta regionale in piena campagna elettorale. Gli allievi provengono da 20 centri diversi. L'assessore all'istruzione Pier Giorgio Ferretti afferma soddisfatto che l'aumento degli iscritti allo Zoli negli ultimi anni è stato massimo. Cinque anni fa globalmente gli allievi erano circa 400 mentre per l'anno prossimo saranno oltre 1000. Il dato inoltre evidenzia un'efficienza organizzativa e buona qualità del servizio scolastico offerto da docenti e personale preseduti dal dirigente scolastico Domenico Marcelli. Voltiamo ancora pagina, lo avete sentito dai titoli, è stato presentato dall'assessore regionale Mauro Febbo il progetto Pandora ed è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa. Questa iniziativa si pone l'obiettivo di formare 40 partecipanti in possesso di requisiti specifici di ingresso nel settore teatrale, audiovisivo e cinematografico al fine di immettere nel mercato del lavoro otto figure professionali, tecnici, specialisti del settore. Per il teatro un direttore di produzione dell'evento dal vivo, un drammaturgo, un live designer, un attore e un performer live. Per il cinema invece un direttore di produzione per l'audiovisivo e new media, un filmmaker, un music composer e poi un attore dei performer video. Nell'odierna conferenza stampa sono intervenuti l'attore Alessandro Preziosi, direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, l'assessore regionale Mauro Febbo, il deputato Fabrizio Di Stefano, delegato al Teatro Marrucino per il Comune di Chieti e poi Ezio Reinaldi, presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo, Ferdinando Di Orio, presidente della Fondazione dell'Università degli Studi dell'Aquila e Gilberto Testa, amministratore delegato di CODEM. Proprio il CODEM, organismo di formazione accreditato alla regione Abruzzo, infatti in associazione con Teatro Stabile d'Abruzzo, Teatro Marrucino, Fondazione dell'Università dell'Aquila e di ECAM Lab, è promotore ed organizzatore del progetto Pandora che prevede proprio l'organizzazione di una serie di iniziative volte a formare nuove figure professionali in campo artistico e culturali. Ed ora vogliamo raccontarvi invece una bella storia, quella di Gino, un pescatore musicista di Francavilla al mare. Gino ha avuto da sempre la passione per il mare e poi successivamente ha visto nascere anche quella per la poesia. Proprio le sue poesie sono state trasformate con la sua chitarra in musica e canzoni ed oggi, pensate, è arrivato anche a realizzare un primo CD dal titolo Il Pescatore. Vediamo. È una bella storia che viene dal mare, quella che vi raccontiamo, sì, un luogo dove è possibile trovare riposo, pace e tranquillità, lontano dai problemi della vita di ogni giorno, proprio come entrare in un angolo di paradiso dove tutti i problemi sembrano svanire nel nulla. Lo sa benissimo il protagonista di questa storia che vogliamo introdurre così, con tre elementi fondamentali che lo descrivono, ovvero un uomo, una chitarra, il mare e queste bellissime note. Il Pescatore Si, avete capito bene di chi stiamo parlando. È Gino Arena, un artista pescatore emigrato in diversi paesi europei e poi in Marocco ed è rientrato in Abruzzo nel 1969 ed è proprio lì che ha finalmente trovato modo di esprimere al meglio la sua poesia interiore in musica e canzoni. Gino trascorre la sua infanzia in uno dei periodi più difficili della storia italiana. Duro ed introverso nasconde dentro di sé un animo poetico che lo avvicina alla musica. E la nostra chiacchierata con lui comincia proprio dai tanti ricordi che gli ha lasciato la passione per il mare. Quanti ricordi la passione per il mare, Gino? Tanti ricordi, tanti ricordi. Il mare è stata sempre la mia passione. Il mare in un certo momento è solitudine, solitudine però la solitudine a volte è inspiegabile, non si può spiegare la passione per il mare. Dura la vita di un marinaio che comincia con il sorgere del sole, finisce al calare della sera, però a volte succede anche che si sta fuori per diversi giorni senza conoscere nessuno, ma come fa un marinaio? Solo cielo e mare. Sì, solo cielo e mare. Però il lavoro nostro da pescatore è la piccola pesca. Noi mettiamo le reti la sera e la mattina andiamo a ritirare. Però la sera si fa sempre... dopo mangiato non hai nemmeno tempo di guardare un po' la televisione, subito devi andare a dormire perché la mattina alle 4 tu devi alzare alle 4. Le 4 quando si è fatta troppo tardi, altrimenti l'estate alle 4 è già quasi giorno, allora alle 3 ti alzi, insomma vai a mare e vai a ritirare le 3, le 3 entri alle 7 e mezza, la mattina, con le reti che tu hai calato la sera. Senti, la passione per il mare ha fatto nascere in te anche un'altra bella passione, quella per la poesia. La poesia, chiamiamolo poesia, però sono cose che viene da dentro, non so spiegare come nasce, come nasce queste cose, sono scritte tante di quelle canzoni, 50, 60, 70 di canzoni che non so come nascono. Se io dovessi dare una spiegazione, ma come insomma, Gino adesso che scrivi poesie, canzoni, ma io non so spiegare, non so spiegare perché nasce così, insomma, con la semplicità. La semplicità e le cose reali, dalla montagna, secondo me dove c'è la passione, quando c'è la passione per un qualcosa, è già l'inizio di una determinata poesia, per esempio, è già una poesia, perché tu sei appassionato a una professione e lo fai bene. Quando uno ha la passione, lo fa bene il mestiere. Dovete sapere che Gino ha imparato da autodidatta a suonare la chitarra, uno strumento che lo accompagnerà nel suo cammino dall'adolescenza all'età adulta. Poi la dura decisione, a 19 anni, di lasciare il suo paese per andare a cercare fortuna all'estero. Lui e la sua chitarra toccano Francia, Germania, Olanda, Spagna e Marocco. Solo nel 1969 il rientro in Italia, in un momento denso e prolifico di avvenimenti musicali. La chitarra è uno strumento che mi ha accompagnato per 60 anni che mi accompagna la chitarra. Io senza la chitarra non potrei stare. La chitarra è come una donna, non si può vivere senza una donna. E la chitarra è la stessa cosa. La chitarra ti manca. Dopo uno, due giorni, tre giorni, per esempio, quando si rompe qualcosa, tu senza la chitarra non puoi stare. La chitarra è la mia vita. La chitarra mi ha fatto accompagnare e scrivere le canzoni. Dovete sapere che in quel periodo i più famosi artisti italiani che venivano in Abruzzo si appoggiavano alle migliori orchestre locali e Gino era con loro, presenti ad accompagnare le loro voci con la sua chitarra, solo per fare qualche nome, Nilla Pizzi, Aurelio Fierlo, Toni Sant'Agata e Giovanna. Un turbinio di flash, di parole, di volti e di canzoni, che lui ricorda così. Abbiamo accompagnato con Nino Ranale, Nilla Pizzi, poi Giovanna, poi Toni Sant'Agata, Toni Sant'Agata e Colli, poi Aurelio Fierro, Letto Manopello, tanti cantanti, Brunalelli, anche una cantante a quei tempi molto noti, Mimina, eccetera, 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 tanti cantanti, capito, quei tempi, con l'orchestra, come si chiama, Nino Ranale, Antonio Cupido e Cesare De Cesaris. Cesare De Cesaris ha suonato, ha fatto tre feste con Cesare De Cesaris, tutti musicisti. Ecco, ma la cosa più importante di Gino è che ha un lato della sua personalità che vale la pena conoscere, ovvero la modestia che lo ha reso sempre un po' schivo e lo ha portato a non vantarsi mai delle sue imprese. Un uomo e la sua passione per il mare, Gino il poeta pescatore, una passione che ha visto nascere delle bellissime poesie dedicate al suo mare, al suo paese e alla sua gente, poesie che lasciano trapelare tutto l'amore che il poeta pescatore ha per la sua terra e la sua famiglia, l'amore per il mare che è spazio infinito dove perdersi nei ricordi, poesie che, pensate, con la sua chitarra ha trasformato in canzoni. Sono settanta le canzoni scritte da Gino e oggi per lui è arrivato anche un primo cd che si chiama Lupe Scatore dove ci sono mare, montagna e amore. Mare, montagna, amore, bravo, bravo, 8 brani, 8 canzoni, 2, 4, 6, 8, ogni 2 canzoni sono simili, qua c'è Lu Marenare e Lu Pescatore, queste canzoni per esempio, Lu Marenare l'ho scritto con tre giorni forse, tre gioco, perché ti si, come dici, rimane talmente nella mente che tu appena, appena, come quando tu fai un discorso stai leggendo. Gino, prima parlavamo del tuo bellissimo cd dove ci sono mare, montagna e amore, però c'è anche una bella colonna sonora da te scritta e musicata che è l'Abruzzo. L'Abruzzo, sì, c'è quando finisce il ritornello e poi c'è un pezzo solo musica. Vogliamo ascoltarla? Sì. L'Abruzzo è d'ora, quanta folklore, l'Abruzzo canta, l'Abruzzo è lente, tanta pastura, vecchie paiere, antico sanze, la transumanze. L'Abruzzo è d'ora. E' un mare, un po' montanare, l'Abruzzo è nata e cresciuta, franca bellese. L'Abruzzo è forte, gentile, senza pretese. L'Abruzzo è orgoglioso, ma che bello paese. L'Abruzzo è un po' montanare, l'Abruzzo è un po' montanare. L'Abruzzo è un po' montanare, sono innamorato non solo dell'Abruzzo, di tutte le canzoni che ho scritte. A Condifatti, se vada a vedere i tiretti, c'è sempre, ci sono oltre 100 canzoni che ho scritte. Prendiamo un altro brano che per te rappresenta un luogo di rifugio per trovare ispirazione, La montagna. Vuoi farci ascoltare un pezzettino della montagna? La montagna è un altro... Sono sempre il pescatore, quello che canta anche il cuore. La primavera ha già riveduto, la poesia mi ha ritrovato per cantare un'altra canzone. Noi pensieri alla montagna, specialmente alle voltini, A dove si beva, a dove si mangia, vino rosso di cantina, rusticilla e custatina. Voglio vedere un bosco verde, voglio parlare in grupe corale, Voglio riccare il cielo canale, voglio trovare la pace a vedere, E speriamo di dare buone. Quante belle la montagna, paesite e picchiarille, Gino ama trascorrere le sue giornate in questo piccolo spazio che lui definisce il luogo della memoria, perché è in questo suo locale di Francavilla che lui ritrova i tanti ricordi del passato, che gli ha regalato momenti belli e momenti brutti, ma non fa niente perché Gino sa dimenticare quei momenti brutti e lo fa proprio tra le reti del suo mare, ormai appesi al chiodo per raggiunti limiti di età, e le corde della sua chitarra, che ogni giorno continuano a regalargli gioia, amore e felicità. Anzi, Gino forse ci ha voluto far capire che potrebbe essere proprio la musica la strada giusta per rinascere e non arrendersi mai di fronte agli ostacoli della vita. Il silenzio mi protegge, la natura fa la schia, il cuore sareboso, la vecchia è più leggera, il bosco verde a primavera, l'estate è tutto rosa e fiore, fuori gialli e autunno, cielo grigio, prate bianche, tupetto, isole inverno, margherite, fiore gialle, aria fine, prate verde, vendecelle frizzantine, corvenire selvaggine, tutte queste la montagna. Se la notte fa paura, e lo silenzio mi protegge, la natura fa la schia, il cuore sareboso, la vecchia è più leggera, la bella torna e luce la carezza, l'estate inverno e l'autunno e primavera, che cosa bella quando le gerlitte bianche, volevo le gocce a nu, la bella torna e luce la carezza. E vi ricordo l'appuntamento con il nostro settimanale, l'approfondimento curato della testata giornalistica Teleatri Notizie, in onda ogni domenica a partire dalle 21.30, e vi ricordo anche che per donare il 5 per 1000 all'associazione di volontariato Carta, club amatori radio televisioni a Triani con TV Atri, è possibile farlo al numero di codice fiscale, 9 0 0 0 6 4 9 0 6 7 7, lo ripetiamo, 9 0 0 0 6 4 9 0 6 7 7, ed è tutto per questa edizione, ora spazio alle previsioni del tempo. Buona serata. L'augurio di una buona e serena giornata a tutti voi amici che seguite ilmeteo.it, previsioni per mercoledì 16 aprile. Correnti molto fresche, nord orientali sferzano le coste adriatiche centrali e meridionali, portando anche qualche pioggia e un calo termico. Ecco il dettaglio, al nord prevalenti condizioni di bel tempo, con cielo sereno poco nuvoloso, salvo qualche nube in più, che potrà interessare la Venezia Giulia e la Liguria, ma senza portare precipitazioni. Raggiungiamo il centro, dove molte nube interessano l'Abruzzo e il Molise, i settori apennini ci annessi, con qualche pioggia o breve temporale, qualche piovasco possibile anche sul Lazio meridionale e nord-est Sardegna. Soleggiato altrove, spostiamoci al sud, cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma nubi fuoriere di qualche rovecio breve temporale, interessano ancora la Puglia e gli appennini campani, lucani e calabresi. Più solo in Sicilia e sulle coste tirreniche, la neve scenderà sugli appennini a quote superiori ai 1400 metri, venti molto forti, orientali sul medio e basso adriatico, settentrionali altrove, temperature minime in forte, diminuzione su tutto il territorio nazionale, con valori compresi tra i 4 e i 12 gradi, calo deciso anche durante il giorno, non più di 17 gradi al nord, fino a 20 gradi al centro, 16-21 gradi al sud, con punte di 23-24 gradi in Sicilia.